E' il giusto percorso? C'è solamente una persona qua Attenzione, devo mettere il bollino rosso Laverna, i due anelli da chiusi della verna Facile, facile escursione Che parte da chiusi della verna Composta da due anelli concentrici Nei pressi del santuario Mister Ricci Sono emozionato perché posso andare a camminare Lo so, ma abbiamo Io ho preparato un cocktail martini Lì sopra Ce lo preparano proprio I ragazzi che stanno qua al monastero Le monache Le monache con le olive ci portano le monache No one away Oh yeah, you'll only think I'll be after midnight Oh yeah, 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 oh Grazie a tutti Oh che bello qui, che stigata Oh finalmente inizia il trekking Lo possiamo dire o no? Siete felici? Ma il bad boy alla fine non mi sta bene Vieni solo, faccio la lecchiaia Dai ragazzi, dai, dai Sentite l'energia spirituale di San Francesco Possiamo dire di aver trovato il sentiero Ma in valle si stanca? No, assolutamente È perché ho la borsa pesante Tutta roba di Lucovi Beh ragazzi qua è un bello spot Leo mi raccomando qui non ci possiamo scorgere Che un attimo Ed eccoci qua Arrivati Inizia proprio Che facciamo volare qualcosa No, cosa dici? Oh yeah Contente che ce l'abbiamo fatta? Bella lì ragazze Ma inizia proprio la scalinata la facciamo, vero? io sono andato solo per questo allora Monio preparati che fra un quarto d'ora raduniamo la folla e bagliamo la macarena tutto bene? camminata come sta andando? sta andando molto bene avete smesso di ridere ragazzi? quando saremo morti ragazzi se vi perdete mi raccomando sentiero 051 è quello del nostro anello pausa mangiamo beviamo poi riprendiamo ciao 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 mi raccomando mettete like al video che sicuramente vi è piaciuto e iscrivetevi al canale youtube è una figata iscriviti al canale 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 canale